Allora, è pronto signor Sintopoco per andare al Duomo? Sì, sì. Ok, allora partiamo. Qual è successo signor Sintopoco? Sono sconfiata la ruota, la devo gonfiare. Ok, ci rivediamo tra cinque minuti, dobbiamo gonfiare la gomma. Aspettiamo. Ok, ha fatto? Perfetto. Ok signor Sintopoco, siamo pronti per ripartire? Partiamo. Ok, abbiamo avuto un contrattempo di neanche cinque minuti e adesso ripartiamo. Guardate qua, fierissimo. C'è una piazza grande. Destinazione piazza grande. Andiamo. Ecco qua, partiamo. Verso di qua. Per le strade di Modena. Siamo proprio a galoppo. signor Sintopoco, in che via siamo adesso? Siamo in via Bonaccini. Sintopoco, perfetto. E di qua invece c'è via San Giovanni Bosco. Beh, di qua direi a destra. Ecco qua. Adesso in teoria siamo a via San Giovanni Bosco. Molto bello, con tanti alberi per ricreare l'ossigeno, perché siamo in troppo in sto pianeta e quindi consumiamo tanto ossigeno. E sono gli alberi che ce lo danno l'ossigeno, però state attenti, non dormite con delle piante nella vostra stanza, perché assorbono l'ossigeno di notte. Ecco qua. Tra poco saremo arrivati a piazza grande. Ecco qua la ciclabile. Che bella giornata che è oggi. Il signor Sintopoco sta affrontando il viaggio in bicicletta per andare. Piazza Grande. Siamo quasi arrivati? Ok, perfetto. Ecco qua, guardate che bello. Come notate la strada è cambiata adesso, è fatta di ciottoli di pietre. Con fierezza, con onore. Facciamo vedere, questo qua è il comune di Modena. Una bellissima statua. Ecco qua. Guardate che bello. Ringrazio a tutti per questo viaggio. Ringrazio a tutti per questo viaggio. E facciamo vedere il Duomo. Ecco il Duomo. Questo qua è il Duomo. Cosa? La Ghirlandina. La Ghirlandina. Questa è piazza Duomo. Quella è il comune. Questo qua è il comune. E niente, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.